Sin dai primi passi nelle categorie giovanili della Juventus, Dean Wilson è stato acclamato come un talento eccezionale, dimostrando abilità tecniche e un'intelligenza tattica molto oltre la sua età e posizione. Tuttavia, mancavano opportunità. Sotto la gestione di Allegri, il giovane aveva raramente spazio per mostrare il suo potenziale. È stato solo dopo il suo trasferimento alla Roma che Wilson ha iniziato a brillare sotto i riflettori del calcio e del mercato dei trasferimenti. Sotto la guida dell'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, Wilson ha ricevuto elogi pubblici. De Rossi non risparmia parole nel descrivere il giovane prodigio, per lui non ci sono limiti. Possiede una conoscenza tattica raramente vista nei giocatori della sua età, potrebbe facilmente giocare a centro campo. Le sue letture di gioco si equiparano a quelle di un veterano di 30 anni, ma ha solo 18 anni. È fenomenale con il pallone ai piedi e mostra coerenza difensiva per tutti i 90 minuti. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo, ma è veramente ispirante vederlo allenarsi. Ha detto l'allenatore della Roma. Al momento, Wilson è nel radar di vari club europei d'elite, tra cui Borussia Dortmund, Manchester United e Tottenham. Tuttavia, PSG e Atletico Madrid hanno già avviato contatti diretti con la Juventus per esplorare la possibilità di un accordo. Qual è la posizione della Juventus in questa situazione? Secondo fonti affidabili, nonostante i numerosi rumors, la Juventus mantiene una posizione chiara, sarebbero disposti a negoziare Wilson solo per un'offerta minima di 25 a 30 milioni di euro. Tuttavia, ci sono coloro che non sono d'accordo con questa valutazione. Alcuni sostengono che Wilson dovrebbe essere venduto solo per cifre compresse tra i 50 e i 60 milioni di euro. E tu, qual è la tua opinione sull'argomento? Lascia il tuo contributo nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale per continuare a ricevere aggiornamenti su questo e altri argomenti legati alla Juventus.